Dopo aver rotto il ghiaccio nel primo set è stato emozionante e divertente. Le difficoltà dell'Olimpiade, non poter dormire sette ore piene a causa del fuso orario, ha confessato Egonu, trascinatrice delle azzurre con 18 punti. All'esordio non sai mai cosa aspettarti aggiunge il citimazzanti c'era tanta emozione e credo che le partite del girone ci aiuteranno ad aumentare il ritmo. C'è un grande clima dal primo giorno che le ragazze sono entrate in collegiale, martedì prossimo, 27 luglio, alle ore 16.25 giapponesi, le 9.25 italiane, l'Italia giocherà contro la Turchia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.